E dopo la prima parte di quelli che sono i consigli per quanto riguarda le uscite su Prime Video durante il mese di febbraio con i 7 consigli che vi ho già dato, quindi potete recuperare il video perché lo trovate nel canale, passiamo alla seconda parte. Come vi ho spiegato in quel video, in questo mese ci saranno talmente tante uscite nella piattaforma di streaming Prime Video che non volevo spararmele tutte in un unico video anche perché sarebbe risultato troppo lungo, quindi ho diviso la cosa in due e quindi oggi avremo altri 7 consigli per quanto riguarda 7 film che arriveranno proprio a febbraio nella piattaforma Prime Video. Adesso sigla e poi iniziamo. Ed allora, bentrovati in questo nuovo video di consigli. Come sempre prima di iniziare vi ricordo le cose alle quali tengo particolarmente. La prima, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella in modo tale da rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti ed inoltre in questo modo, supporterete il mio canale e mi aiuterete a farlo crescere, quindi cliccate sul tasto iscriviti e poi cliccate sulla campanella. Inoltre, se mi volete ulteriormente supportare a costo zero semplicemente facendo i vostri acquisti su Amazon, io vi invito a farlo utilizzando il link che trovate qui sotto in descrizione perché è un mio link di affiliazione e se voi lo utilizzate per fare qualunque vostro acquisto anche non necessariamente a tema cinema, a voi non cambia nulla, non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto, quindi qualunque acquisto dovrete fare vi invito a farlo a partire dal link che trovate in descrizione. Ed infine vi ricordo come sempre anche l'app I'm Watching, anche qui la trovate in descrizione il link sia per Android sia per iOS ed è una app che vi permette di approfondire le informazioni dei film di cui parliamo, potete scrivere le vostre recensioni, lasciare i vostri giudizi, creare le vostre personali playlist e se volete mi potete seguire anche lì perché mi trovate come Doctor Cinema, quindi I'm Watching, link in descrizione, scaricatela ed eventualmente ci becchiamo anche lì. Ma come sempre io direi di mettere bando alle ciance di iniziare questa carrellata di consigli proprio per quanto riguarda la piattaforma di streaming Prime Video, quindi altri 7 consigli, 7 film che sbarcheranno su Prime Video durante il mese di febbraio. Il primo consiglio di questa carrellata riguarda un film di Steve Spielberg degli anni 2000, probabilmente tra i più entusiasmanti e tra i più divertenti anche di Steve Spielberg di quel periodo e sto parlando di Prova a Prendermi. Tra l'altro un film che racconta la storia di un personaggio realmente esistito, con una coppia di attori fenomenale perché stiamo parlando di un film con Tom Hanks da una parte e Leonardo DiCaprio che tra l'altro aveva già conosciuto chiaramente la popolarità grazie a Titanic ma si fece conoscere sempre di più ed in maniera sempre migliore tra l'altro negli anni successivi, diventando poi chiaramente quella che è la grande stella che conosciamo oggi. Un film davvero imperdibile, uno dei migliori probabilmente di quel periodo di Steve Spielberg come ho detto, un film da dover vedere almeno una volta nella vita, fosse proprio anche solo per la presenza di una coppia in grandissima forma, soprattutto poi considerando quel periodo davvero sia Tom Hanks che Leonardo DiCaprio erano non dico all'apice dello splendore perché entrambi in realtà avrebbero conosciuto dei periodi di maggiore splendore Tom Hanks un po' prima negli anni 90, Leonardo DiCaprio un po' dopo, però davvero un film imperdibile. Non potevo che consigliarvelo, arriverà in particolar modo sulla piattaforma di streaming Prime Video a partire dal primo di febbraio, quindi il primo giorno di febbraio prova a prendermi Steve Spielberg. Sempre a partire dal primo di febbraio arriva su Prime Video un grande cult intramontabile degli anni 60 e sto parlando di Colazione da Tiffany, chiaramente un film del quale credo ci sia ben poco da dire, ben poco da dover specificare, se non per la presenza di una, anche qui, immortale, eterna, leggendaria, non so come altro definirla, Audrey Hepburn. Chiaramente un film tratto da quello che è l'omonimo romanzo di Truman Capote, un film che tra l'altro soprattutto chi ama il romanzo non è che abbia mai apprezzato fino in fondo, ma credo davvero che ci sia ben poco da dire su questo film. Sì, ci saranno delle differenze con il romanzo, il romanzo probabilmente è anche superiore, io non l'ho mai letto quindi non so fare i paragoni, però come sempre dico, beh, i paragoni lasciano un po' il tempo che trovano, è giusto farli, soprattutto quando si parla di grandi opere come questo. Però davvero, io credo che il film sia più che un cult, credo che possa essere definito un grande capolavoro della storia del cinema, quindi non posso che consigliarlo a partire, anche in questo caso, dal primo di febbraio, su Prime Video, Colazione da Tiffany, davvero, con una indimenticabile, eterna, leggendaria, immortale, monumentale, Audrey Hepburn, quindi Colazione da Tiffany, secondo consiglio di questa carrellata. Il terzo consiglio di questa lista, in realtà va a raggruppare due film, perché uno è il sequel dell'altro, stiamo parlando probabilmente di uno di due, anzi, tra i film più demenziali che io abbia mai visto nella mia vita, ed è facile capirlo anche perché tra i protagonisti abbiamo, da una parte Bestillere, ma anche Owen Wilson, stiamo parlando di Zoolander, film demenziali a dir poco, ma comunque divertenti, non sono dei film banali, non sono dei film stupidi, idioti, la demenzialità, come dire, l'ironia di questi film, secondo me è qualcosa di... che poi difficilmente sia anche ripetuto nel corso degli anni, grazie anche a dei protagonisti, davvero, all'apice, anche in questo caso, della loro forma, soprattutto Ben Stiller, Owen Wilson, Zoolander, credo sia davvero uno di quei film da dover vedere, per regalarsi un'ora e mezza di totale, completa, spensieratezza, senza avere nessun tipo di impegno mentale, cerebrale, però comunque con la consapevolezza che non si è buttato il proprio tempo con un film stupido, con un film davvero da dimenticare, da buttare. E' un film che riesce a divertire, diciamo, in maniera demenziale sì, ma tutto sommato anche in modo intelligente, non so come definirlo meglio, cioè sì, è un film demenziale, ma non è un film idiota, non è un film brutto, non è un film stupido. Quindi non posso che consigliarvelo, a partire dal primo di febbraio, sia il primo, sia il secondo, Zoolander, arriveranno sulla piattaforma di streaming Prime Video. Se non l'avete mai visti, per un'ora e mezza ciascuno, all'incirca, io mi sento di consigliarvelo, proprio per andare a riscoprire anche dei film che hanno in piccolo fatto la storia, appunto, del genere, della commedia demenziale, con un grande Ben Stiller. Quindi, primo febbraio, Zoolander 1 e Zoolander 2, quindi un unico consiglio, ma in realtà due film diversi. Il quarto consiglio di questa carrellata mi porta nuovamente a prendere in considerazione un film di Steven Spielberg, perché? Perché parliamo di Minority Report, con la presenza di Tom Cruise, un film che, tra l'altro, io dovrei rivedere, perché? Perché è un film che ho visto più di una volta, anche perché è già di diversi anni fa, un film che dovrei rivedere perché, secondo me, soprattutto, diciamo, alla luce di quelle che sono le tecnologie moderne, di tutto quello che è successo negli ultimi anni, di quella che è stata l'evoluzione tecnologica, potrebbe riservare delle piacevoli sorprese. È un film che non vedo da tanto tempo, quindi mi sento comunque di consigliarvelo, perché comunque è un film che mi ha sempre entusiasmato, un film forse anche un po' sottovalutato, ecco. Non è uno dei film di cui si parla maggiormente, né per quanto riguarda la carriera di Tom Cruise, né per quanto riguarda la carriera di Steven Spielberg, però a me è sempre piaciuto. Mi ha sempre anche intrigato quello che viene mostrato in questo film, quindi a partire dal primo di febbraio lo possiamo trovare sulla piattaforma di streaming Prime Video. Quindi, se non l'avete mai visto, ve lo consiglio. Se doveste averlo visto, tra l'altro, fatemi sapere che cosa ne pensate, ripeto, perché io spero di poterlo rivedere a breve, quindi devo rinfrescare un po' la memoria, ma fatemi sapere se vi piace o se non vi piace. Quindi scrivete qui sotto tra i commenti Minority Report a partire dal primo di febbraio nella piattaforma di streaming Prime Video. Il quinto consiglio, quindi il terzo ultimo consiglio di questa carrellata, mi porta nuovamente avanti nel tempo, arriviamo intorno al 2014, se non ricordo male, un film biografico, un film che racconta la storia di uno dei più importanti scienziati degli ultimi secoli, probabilmente, cioè Alan Turing, e infatti sto parlando di The Imitation Game, con un bravissimo, tra l'altro, Benedict Cumberbatch, proprio nei panni di Alan Turing, un film che racconta la storia vera, appunto, di Alan Turing, soprattutto una parte, la parte che poi lo vide coinvolto nella decriptazione dei dati, delle informazioni naziste, proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, e questo, tra l'altro, fu anche importantissimo, proprio per poter portare avanti la lotta ai nazisti. Secondo me, un ottimo film, un film che è stato anche, forse, un po' sottovalutato, se ne parla anche troppo poco negli ultimi tempi, bravissimo, davvero, anche, appunto, lo stesso Benedict Cumberbatch, un film che vinse l'Oscar, come per la migliore sceneggiatura non originale, ma probabilmente avrebbe meritato maggiore attenzione, quindi ve lo consiglio, soprattutto, appunto, perché racconta la storia di un personaggio che è stato importantissimo nella storia recente, relativamente recente, dell'Europa, ma, davvero, secondo me, un po' troppo sottovalutata, anche da quel punto di vista, e, tra l'altro, fu un personaggio non molto, non proprio fortunatissimo in quella che è stata la sua vita, quindi, The Imitation Game, a partire dal primo di febbraio, lo ritrovate nella piattaforma di streaming Prime Video, se non l'avete mai visto, dategli un'opportunità, sicuramente, mettetelo nella vostra personale lista dei film da vedere, se l'avete già visto, magari potrebbe essere piacevole riguardarlo, quindi, quinto consiglio, The Imitation Game, con un bravissimo Benedict Cumberbatch. Sempre il primo di febbraio, penultimo consiglio di questa carrellata, arriva su Prime Video, un film, secondo me, meraviglioso, che, tra l'altro, ha segnato anche il ritorno di una coppia attoriale cinematografica che aveva già incantato tutti e tutto il mondo qualche anno prima. Sto parlando, infatti, di Revolutionary Road, di Sam Mendes, con la presenza di due indimenticabili attori come Leonardo DiCaprio e Kate Weaslet, chiaramente il riferimento era al Titanic, al film Titanic di qualche anno prima, probabilmente qui siamo di fronte, in realtà, a delle prove attoriali molto più mature, degli attori che, ovviamente, nel corso degli anni hanno avuto la possibilità di crescere, tra l'altro, una alchimia, una chimica pazzesca tra i due, ma questo lo si nota sempre, anche nelle foto di backstage, quando i due si incontrano in qualunque occasione, magari nelle rassenge cinematografiche, davvero bravissimi, grande film, ottimo film di Sam Mendes, non posso che consigliarvelo, un film molto particolare, un film che, probabilmente, viene citato poco, anche in quella che è la filmografia dei due attori, nella filmografia del regista Sam Mendes, un film, secondo me, da riscoprire, è un film già di 12 anni fa, se non ricordo male, 13 anni fa, quindi, secondo me, è un film da tenere d'occhio, se non l'avete mai visto, vi consiglio di recuperarlo, lo potete trovare nella piattaforma di streaming Prime Video, a partire dal primo di febbraio, anche in questo caso, quindi, un film che vi voglio consigliare, davvero, perché la storia è interessante, gli attori sono fenomenali, il regista è un grande regista, credo che non ci sia più bisogno di dire altro, Revolutionary Road, a partire dal primo di febbraio. L'ultimo consiglio, il settimo consiglio di questa carrellata, mi porta a citare, probabilmente, quello che è il film al quale sono maggiormente legato, tra tutti quelli che vi ho elencato, ed è Green Book, un film di 4 anni fa, all'incirca, con un bravissimo, Marshall Ali, che tra l'altro vinse il suo secondo Oscar come miglior attore non protagonista, dopo quello per Moonlight, e poi abbiamo un monumentale, a dir poco, gigantesco, incredibile, Viggo Mortensen, ingiustamente snobbato a quelle che sono state le rassenge cinematografiche, le premiazioni cinematografiche, lui è bravissimo nei panni di Tony Vallelonga, in un film, tra l'altro, che è biografico, fondamentalmente perché racconta la storia di due personaggi realmente esistiti, un film, secondo me, meraviglioso, tra l'altro con un regista, Peter Farrelly, che ha, con questo film, dimostrato quanto, diciamo, fosse bravo, tra l'altro, andandosi a distaccare da tutte le commedie comiche e demenziali che aveva realizzato negli anni precedenti, soprattutto anche con quello che era il suo dalizio con il fratello Bobby, un film, secondo me, imperdibile, premiato, giustamente, come miglior film, durante quella che è stata la rassegna degli Oscar successivi, un film meraviglioso, un film che non mi stanco mai di vedere, un film che non mi stanco mai di consigliare, ripeto, con due protagonisti sugli scudi, con due protagonisti giganteschi, e voglio spezzare una lancia, soprattutto, appunto, nei confronti di Viggo Mortensen, che non so cosa potesse fare di più per potersi meritare l'Oscar, però va bene, è andata così, bravissimi entrambi, bellissimo film, a partire dal primo di febbraio lo ritrovate su Prime Video, davvero, dategli un'opportunità se non l'avete mai visto, ed è piacevole rivederlo, soprattutto se già lo avete conosciuto, quindi Green Book, a partire dal primo di febbraio, su Prime Video, ultimo consiglio di questa carrellata. E con questo, quindi, chiudo questa mia seconda carrellata per quanto riguarda i consigli di febbraio per la piattaforma di streaming Prime Video, quindi altri sette consigli di film che usciranno nel mese di febbraio in questa piattaforma, e come sempre, non mi rimane che chiedere a voi che cosa ne pensate di questi film che vi ho elencato, vi piacciono, vi interessano, non vi interessano, fatemi sapere la vostra opinione, e fatemi sapere, soprattutto, se avete altri suggerimenti di film che possiamo vedere tutti su Prime Video, quindi tutte le vostre opinioni, suggerimenti, fatemi sapere qui sotto tra i commenti, perché, come sempre, leggerò tutto con molto, molto piacere. Io, come sempre, vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per aiutarmi a far crescere il canale e rimanere aggiornati sui prossimi video, poi, se volete ulteriormente supportarmi a costo zero con i vostri acquisti su Amazon, io vi invito a farli utilizzando il link in descrizione, perché voi non spenderete un centesimo in più, ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto. Ed infine, vi ricordo, come sempre, anche l'app I'm Watching, link in descrizione, sia per iOS, sia per Android, e se volete ci becchiamo anche lì, perché mi potete seguire anche lì come Doctor Cinema. Noi ci becchiamo ad una prossima video recensione, ad un prossimo video, probabilmente sarà il video di consigli per il mese di febbraio su Netflix, oppure anche nella mia pagina Facebook Doctor Cinema, alla quale vi consiglio sempre di iscrivervi. Io, come sempre, vi auguro anche una buona continuazione di giornata e ci becchiamo presto. Ciao a tutti!